Ciao ladies, benvenuti in un nuovo video, benvenuti in un nuovo video makeup, sono molto contenta della tonalità precisa che sono riuscita a ricreare nello sfondo perché oggi parliamo di un brand cinese che ha come diciamo uno dei colori principali, almeno della collezione che proviamo oggi, che ha questo colore petrolio ottanio molto bello il brand in questione si chiama Florasis e ditemi, ditemi, se anche voi non l'avete visto ovunque nelle pubblicità di Instagram, Facebook hanno fatto una campagna bella forte, quindi sono venuta a conoscenza del brand, poi ho avuto un'amica di una mia amica che come regalo di compleanno ha ricevuto una palette molto particolare che si vedeva appunto in queste pubblicità infatti stavo guardando, vi dico, per metterglielo nello swap a Deborah, però poco dopo mi ha contattato il brand chiedendomi se avevo voglia di provare i prodotti in video con voi e io ho detto assolutamente sì penso sia uno tra i brand più chiacchierati al momento perché sta cercando di portare qualcosa di nuovo e adesso vediamo proprio nello specifico, cerco con questa macchinetta di farvi degli zoom pazzeschi sui prodotti perché vorrei portarvi dentro al prodotto che è secondo me una delle cose più belle che hanno ovvero i pack e le incisioni, vedrete prodotti engraved unici, cioè così non l'ho mai visto poi vediamo anche le formule, testiamo le cose, su questo aspetto non lo so perché non ho provato volevo proprio fare una first impression con voi parto da questo prodottino che è una lip mask ed è molto carino perché oltre al pottino ha anche il suo applicatore, è una collezione che si chiama Impression of Dye non sento odore per ora, vado a prenderlo e ne applico poco sulle labbra, così ah è fresco! è buono perché non sa di menta dolce, sa di menta e dentro c'è secondo me anche la rosa e poi ovviamente penso ci sarà il ginseng dal nome, è trasparente e la lasciamo lì agire mentre ci andiamo a truccare, quindi richiudo il pottino i prezzi sono andata a vedere sul sito, sono medi in generale, sono più alti per i prodotti molto 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 particolari che vedremo mi hanno parlato un po' per me, mi hanno detto che il loro obiettivo è proprio quello di dare una scossa nel mondo del makeup, utilizzando packaging molto vistosi, molto belli, importanti e come vi ho detto hanno queste incisioni stra particolari, quindi anche un po' ricchi, bougie esteticamente meravigliosi, sono veramente dei piccoli gioiellini alcune cose anche come vengono presentate nei packaging, sembrano di gioielli e anche delle piccole opere d'arte ma tutto ciò è correlato ai prodotti naturali all'interno delle formule infatti il nome del brand, quindi Florasis, è così proprio perché all'interno ci sono estratti di fiori herbal extracts e il nome unisce la parola flower e sister Florasis sento un po' di effetto fresco, però non è una di quelle cose che va a rendere, non lo so, rosse e grandi le labbra ma vi dirò, io mi sgancio una delle bombe subito voglio subito andare a fare gli occhi con la palette tra l'altro è anche travel friendly mi sembra molto molto compatta io spero di rendere un minimo di quanto è veramente bella dal vivo è incredibile anche uno specchio dentro abbastanza grande per specchiare gli occhi di super qualità cioè lo specchio è proprio HD non so se ho notato solo io questa cosa raga vi dico soltanto che è così HD che stavo cominciando a schiacciarmi tutti i punti neri meglio di no allora ha la chiusura anche calamitata ha sia opachi che shimmer che metallizzati questa si chiama Oriental Shine Makeup Relief Palette sono indecisa, non so che trucco fare forse lasciamo stare il viola anche se è meraviglioso a me chiama questo bronzo mi chiama il verde voglio andare a realizzare qualcosa di soft grafico vado intanto a delineare con questo colore la mia V guardando dritto vado ad intensificare con il marrone scuro che è anche il colore più scuro della palette sto pensando se mettessi il verde sopra provo eh tra l'altro è un peccato rovinare prendere il prodotto dalla palette c'è molto oro in questo verde oliva molto molto ok mi piace questa situazione montagna ma no mi faccio una fatica a tenere gli occhi chiusi così ci sono persone che lo tengono tutto bello normale a me trema sempre che odio prendo invece questo super mega color champagne per la parte interna speriamo che i colori rimangano così è proprio carino non ho mai fatto una cosa del genere sembra tipo non lo so tagli una torta al pistacchio e scopri che dentro c'è vanilia e cacao carino poi tra l'altro voglio mettere il bronzo che dicevo mi chiamava tantissimo nell'arema inferiore quindi quello lo mettiamo dopo sono io che busto sono dovuta andare dal vicino dal piano di sopra perché aveva la musica a palla era anche molto bella ma youtube me l'avrebbe bloccata per copyright questo è la nostra base del makeup che mi piace tantissimo io ho gli occhi molto diversi tra loro e quindi non è facile fare le cose grafiche però dai avete capito? perché la collezione è impressions of dye avete capito? vabbè non so se passare alla cipria ma vi dirò sì abbiamo la gorgeous peach blossom silk powder sono 8 grammi di prodotto devo dire che un sacco di cose sono scritte in cinese però qualcosina in inglese c'è poi vi lascio qui sotto scritto tutto quanto così vi scrivo cipria in italiano e capite il link della cipria qual è anche questa è meravigliosa il packaging si somiglia sempre perché appunto parte della stessa famiglia questa qui ha il 30% di oil control quindi è estremamente per le pelli grasse misto grasse infatti la andrò a mettere nella mia zona grassa del viso la mia zona T allargata era impacchettato a parte ma nello stesso pack anche questo quindi il puff che facciamo? siamo il puff? dai per la fronte dai sì tu 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 madonna mi dispiace tantissimo favone mi dispiace ucciderti così allora faccio metà viso così vediamo la differenza tipo questa zona qui anche il naso ovviamente qua sulla fronte quindi non mi allargo qui sotto wow credo lo possiate notare anche voi cioè si vede tantissimo la differenza nei pori nella grana qui è tutta allisciata come se facesse un mini effetto seta filler capito? cioè io spero che si veda qui è impressionante cioè qui non c'è e da qui c'è mi piace non so se utilizzerei il puff però secondo me col pennello si controlla meglio andiamo ad applicare adesso il prodotto per le sopracciglia che a me raga pare palese tipo la bacchetta di Sambuco ha da un lato il colore in lamina retraibile e dall'altro lo scovolino per pettinare le sopracciglia e poi ah una cosa che non ho mai visto fare da nessuno ovvero il refill ovviamente della parte del colore io ho già tirato sui miei peletti adesso andiamo a creare ciò che non ho ovvero le sopracciglia vediamo un po' com'è allora il colore mi sembra perfetto si mimetizza non si vede le mie sono un po' dure perché appunto ho messo il gel per fissarle ok molto carino non è il mio piatto preferito se vogliamo dire così ha un effetto molto carino e naturale poi vado a finirle però già che sono qui mi prendo un pennellino piccolo e metto il bronzo nella rima inferiore ci sta bene pensavo fosse un po' più non lo so multi riflesso si stiamo un po' e passiamo a blush illuminante soprattutto un blush ragazzi dal sito ho azzeccato un colore meraviglioso dai ve lo faccio vedere prima che vado un attimo a mettermi bronzer e altre cose fuori camera peony rosy blush numero 05 mi sembra bellissimo ed è un cream to powder perché effettivamente anche da anche dallo swatch no proprio l'effetto di una crema però poi dall'idea di sfumarsi benissimo ho preso anche però il numero 07 ha una particolarità l'ho preso più che altro per questo per questo ovvero guardate che particolare il design vediamo da qui che colore esce fuori oh oddio lo rovinate per sempre ah questo è proprio come mi immagino in Asia il blush cioè anche questo dico proprio la come si sfuma come è sottile questo trucco mi piace sempre 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 di più man mano che lo strutturo adesso una cosa che manca è l'eyeliner andrò a fare una linea veramente sottile giusto per allungare però la farò sia all'esterno che all'interno e non vedevo l'ora di utilizzare questo eyeliner qui l'ho preso nella tonalità marrone per fare qualcosa di diverso e per fortuna perché mentre facevo il trucco occhi mica mi ero ricordata che l'avevo preso marrone invece sta dovrebbe stare da dio andiamo un attimo a swatchare ha la punta in setole come appunto i miei preferiti questi sono un po' di swatches che ho fatto allora parto dall'interno così vediamo subito bene il colore è caldo ok molto bello molto naturale marrone all'attaccatura sembra quasi il proseguimento del mio occhio davvero quando non è così ero indecisa quella sono andata a fare più intensa ormai lo devo fare anche dall'altra parte però dai mi piace quindi vado a colorare anche questa parte più interna dai mi piace tantissimo non penso di farla anche esternamente cioè secondo me è perfetta così questo trick del marrone nella parte interna invece del nero me lo tengo me lo prendo e me lo metto da parte proprio per utilizzarlo in generale passiamo ai blush che vi dicevo mi rendono molto molto entusiasta li abbiamo sbocciati tutti e due io cioè proprio sono sicura di voler utilizzare il numero 05 he's the one cioè non so qual è il metodo migliore di applicazione però mi sembra che a prescindere sia molto sfumabile ok posso usare un altro po' anche perché quest'anno è stata un po' la rivincita dei blush ah tra l'altro anche il packaging molto carino questo si differenzia sì non penso che infatti faccia parte di tutto quello che abbiamo visto con i pavoni eccetera e qui abbiamo poi l'illuminante che ha la rosa engraved quindi incisa sempre 3D questo qui è ad esempio arricchito con fiori d'albicocche di pesca vado a prendere un pennello piccolo tipo così non troppo grande perché voglio concentrarmi solo su alcune zone vediamo com'è aspettate prima voglio sbocciare così rovinando per sempre la rosa ammazza no mi aspettavo completamente qualcosa di diverso mi aspettavo tipo no non mi aspettavo una cosa così potente non lo so perché ma dalla dalla forma mi dava l'idea tipo di sapete gli illuminanti cotti no ce n'è uno di MAC famoso ok vado in questa parte qui dello zigomo alto forse è un colore un po' chiaro per me questo è il lo 01 ci sta eh però vedete è molto chiaro quindi occhio se lo comprate anche a questo servono i video per vedere un po' anche i colori come stanno cioè tipo veramente tipo perla vi metto un pochino qui il pennello ancora più piccolo sono pazza oggi andando a lavorare di scultura anche noi per i fidati che arrivano a questo punto del video io al naso penso di aver preso la decisione definitiva ragazzi di rifarlo nel frattempo queste illusioni ottiche aiutano molto molto bello e forse uno dei miei prodotti preferiti vorrei soltanto averlo preso in un altro colore ma non è che non mi sta bene questo è che è leggermente troppo chiaro vi dico sinceramente che avevo alte aspettative per questo brand che non mi ha chiesto di dire che mi piace e tutto quanto anzi condividi le tue impressioni semplicemente di ogni prodotto come si chiama farvi vedere come lo applichi però non pensavo mi piacesse tutto così tanto e che cioè mi è piaciuto tutto tutto a livello di occhi viso cioè sto pensando a qualcosa che mi è piaciuto meno forse ecco con la sopracciglia ma per il resto mi è piaciuto veramente tutto vado a resta di eliminare l'accesso vado a eliminare l'accesso della lip mask che è ancora qui non si è asciugata per niente quindi vado a asciugare un pochino io e passiamo ai prodotti labbra perché ce ne sono una fracca come si dice qui quelli più particolari che fanno parte della collezione di impressions of dye sono quasi dei gioielli anche come vengono presentati nella loro scatolina sembra quasi di prendere un gioiello forse è tipo un orologio la scatolina tutta in velluto nero e hanno un vero e proprio gioiello che si mette con questo moschettone vi dà questo accessorio è una cosa unica ma la cosa ancora più bella che all'interno e io qua cercherò di fare lo zoom della vita cioè è tutto inciso tutto 3D questo ricorda l'architettura concentrica cinese qui inciso c'è il pavone proprio perché fa parte di questa collezione io ho la colorazione M9213 e la colorazione M9420 vi le faccio vedere anche sbocciate sul dorso della mano ma vi giuro che mi dispiace un sacco allora questo è il primo che vi ho detto il finish dovrebbe essere opaco e confortevole e questo invece è il secondo eh qua ho preso proprio mazza che bello sto rosso non so ancora quale mettere sulle labbra però intanto vi faccio vedere gli altri questo qui è il numero M507 il colore si chiama Santal Brown il packaging questo è metallizzato ombre e qui sopra allo stick sono incise delle storie d'amore una cosa così non l'ho mai vista penso che il pezzo forte per assoluto siano i loro rossetti ecco qui questo si è proprio più un marrone secondo me il migliore finora che ci potrebbe stare con il look e per finire abbiamo i Blooming Rouge Porcelain Lipstick Porcelain perché questi qua sono stati lanciati nel 2020 per commemorare la cultura della porcellana sono i più pesanti in assoluto il packaging stesso infatti è fatto di porcellana bianca anche da qui il suo peso pensate è incisa la storia di come veniva creata la porcellana io vedo proprio le persone vengono i brividi questo posso dirvi che secondo me questa cosa qui dei rossetti soprattutto quelli dove sopra c'è una storia è un'esperienza talmente tanto dal vivo che in camera io spero il più possibile di condividerla ma vi dico è impossibile condividerla al 100% anche questo lascia un finish matte ma morbido diciamo confortevole questo è M132 lo metto qui sotto ah questo è più più opaco degli altri ok se vi piacciono i rossetti più opachi questa secondo me questa della porcellana è la formula più adatta e poi ho M303 lo vado a mettere qua ok anche questo è diverso dagli altri il più idratante tra tutti invece se vedete le labbra secche è questo qui io direi di andare a mettere prima Santal Brown bello questa opzione secondo me ci sta benissimo è la sua diciamocelo non volevo farlo ma un rosato lo provo sulle labbra mi provo questo qui della collezione edizione Dye e questo è appunto M9213 questo è ancora più facile da stendere ma alla fine non sta male neanche lui ma posso dire che sono abbastanza indecisa su questa opzione quella di prima mi piace tanto anche questo qua perché non è un rosa freddo che non c'entra niente concluderei però con il rosso della collezione della porcellana mmm beh poi con questi colori sta veramente bene un sacco di cose stanno bene compreso il rosso siamo andati in ordine di opacità e questa qui è l'ultima opzione forse quella che rappresenta di più la cina perché questo rosso è molto molto simile al loro tradizionale questa opzione mi ha messa in crisi perché penso sia la mia preferita tra le tre è un rosso molto particolare è un rosso molto particolare se dovessi votare mi piace di più questo qui fatemi sapere se tra gli ultimi tre vi piace più il marrone il rosa o questo rosso questo è il look finito non c'è una cosa che non mi piaccia non mi voglio struccare sono le 9 di sera devo soltanto cenare ma io non mi voglio struccare se ho qualche sconto ve lo lascio qui sotto nell'info box fatemi sapere che cosa ne pensate questa first impression si è andata oltre le mie aspettative che già erano top sul packaging ma queste formule non me le aspettavo così performanti così belle questo rossetto è il mio preferito cioè questa formula di quelli della porcellana sono i miei preferiti se avete altre cose strane particolari che vedete magari anche nelle pubblicità di instagram di youtube di facebook fatemene sapere qui sotto nei commenti così vado a sbirciare io vi mando un mega bacio vi aspetto su instagram tiktok e noi ci vediamo al prossimo video bye ladies see you soon